Kaivali Apada. Doti mentali eccezionali si ottengono per nascita, assunzione di sostanze, mantra, disciplina, samadhi. L'evoluzione avviene attraverso le forze della natura. Le facoltà sono come il contadino che rimuove gli ostacoli alla crescita. È solo l'egoismo a produrre distrazioni, le condizioni mentali per le afflizioni. Dei tanti schemi mentali uno è determinante, quello che scaturisce dalla meditazione. Lo yogi agisce in maniera disinteressata a differenza delle altre persone, quindi l'atteggiamento evolve alla maturazione delle tendenze mentali. Ricordi, impressioni inconsce mantengono il vivo il rapporto causa-effetto anche in luoghi e tempi diversi. Desideri e impressioni sono spesso ancestrali e senza un preciso inizio. Ma essendo alimentati dal senso di attaccamento dell'ego, all'attenuarsi di questo anche essi sbiadiscono. Gli effetti del passato sul futuro dipendono dalle scelte, meriti e condizioni create. Gli effetti si manifestano come cambiamenti naturali. L'unicità è data da una combinazione unica delle tre qualità della natura, i tre guna. Le diverse manifestazioni di questa unicità vengono percepite in modo diverso a seconda dello stato mentale. Ma l'oggetto non dipende dalla mente che lo percepisce, altrimenti cosa sarebbe in sua assenza. Che venga percepito o no dipende dall'accessibilità dell'oggetto e dalla predisposizione del soggetto. È l'osservatore interiore a controllare la mente e le sue attività perché non è soggetto alle sue mutazioni. La mente è parte di ciò che è percepito. La mente non può concentrarsi su entrambi i processi. L'eventualità di menti momentanee crevebbe confusione di memorie. Quando la mente smette di identificarsi coi pensieri, si riconosce nell'osservatore. La mente quindi presenta oggetti all'osservatore e presenta l'osservatore a se stesso. Anche se la mente raccoglie molte impressioni, è sempre subalterna all'osservatore perché non esiste senza di esso. Per colui che ha raggiunto la chiarezza c'è libertà dal bisogno di conoscere la natura del sé. Questa chiarezza gli fa desiderare solo la libertà e il suo mantenimento. Questo stato può essere disturbato da impressioni passate. Il superamento di queste distrazioni equivale al superamento delle afflizioni. Liberi dagli attaccamenti si raggiunge uno stato mentale di grande chiarezza riguardo a ogni cosa, come una pioggia di chiarezza. Questo è lo stato di vera libertà dalle azioni basate sulle afflizioni. Quando la nebbia che oscura la conoscenza è rimossa, la conoscenza è perfetta e non c'è bisogno di conoscere altro. Le qualità della nostra natura cessano di seguire principi basati sul dualismo. La successione è interamente conoscibile quando la presenza mentale supera il principio.